carlo conti pubblica su instagram un post commovente non dimentichiamoli mai il conduttore ricorda anche un anniversario importante e il re della tv italiana carlo conti sicuramente il conduttore di punta della rai reduce da top 10 non proprio il programma di maggior successo degli ultimi anni in termini di ascolti il conduttore sta ora ricaricando le batterie in vista della prossima stagione dopo aver condotto la scorsa domenica lo zecchino d'oro insieme a mara venier seppur da due studi differenti conti era all'antoniano di bologna la conduttrice a roma e proprio in top 10 è finito al centro di una vera e propria bufera sessista relativa all'ultima puntata andata in onda del programma colpa di una classifica definita troppo stereotipata riguardante le donne e cosa fanno meglio rispetto agli uomini in questa stagione televisiva che sta volgendo al termine nonostante la pandemia abbiamo visto conti in tv vero e proprio eyeliner tale e quale show è andata regolarmente in onda nello scorso autunno ed ha condotto la trasmissione anche da casa quando si è ammalato di covid il conduttore è anche decisamente social ha un profilo instagram con oltre 300.000 follower dove posta immagini quasi esclusivamente dedicate al lavoro non ve ne sono invece della sua vita privata e della famiglia con la moglie ed il figlio che non compaiono il trio è in un post davvero suggestivo di spalle che guardano al tramonto per un effetto davvero incredibile e nel giorno della festa della repubblica carlo conti è tornato a postare ricordando i 75 anni da quando l'italia decise attraverso un referendum di dare il ben servito alla monarchia e dai savoia 2 giugno 1946 nasce la repubblica italiana ha scritto nella didascalia grazie a tutti Grazie a tutti.